Un ragazzo che ha ripreso il suo timbro e il suo profilo. A noi ha fatto molto piacere trovarlo in queste condizioni. E il commento del questore Antonio De Jesu è arrivato al Monaldi per una visita sorpresa al giovane Arturo e verificare di persona il suo stato di salute, augurandogli un buon anno. Accompagnato dal colonnello Baldo del Monaco, comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, e Antonio Serpico, capo della sezione Falchi. Siamo compiaciuti perché dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista psicologico, è un ragazzo che ha ripreso il suo timbro, il suo profilo. A noi è fatto molto piacere trovarlo in queste condizioni. Sì, era in forma, forte, determinato, con sapere di quello che gli è successo e soprattutto con tanta voglia di riscatto, poi brillantemente seguita dalla grande mamma che si ritrova. L'auspicio è sempre che episodi del genere, come diceva lei, non accadano più e soprattutto che questa spirale di violenza venga meno. C'è un impegno e una testimonianza di tutti, non solo a parole ma con i fatti. Ci sono 1.500.000 cellulari in questa città. Mi chiedo perché non vengono documentati atti di violenza, atti criminali. Si possono documentare, vengono inviate le forze di polizia perché è troppo facile indignarsi. Bisogna fare qualcosa di concreto, utile, piccole cose. Arturo, vittima di una feroce aggressione il 18 dicembre scorso in viaforia da parte di minorenni non ancora identificati, per fortuna inizia a star meglio, anche se i problemi alle corde vocali non sono affatto risolti e il ragazzo parla ancora con un filo di voce. Grazie. Grazie.